L'innovazione che mi ha cambiato la vita è stata la decisione del Ministero dei beni culturali di tracciare con GPS la via Francigene e questo ha consentito di riscoprire un percorso antico e di renderlo fruibile per i camminatori di oggi tramite il web e le nuove tecnologie. L'innovazione che mi avrebbe potuto cambiare la vita è l'introduzione delle pedane per salire sui marciapiedi che qui a Roma vengono regolarmente e sempre disattese e in qualche modo violate perché le macchine ci parcheggiano sopra a questa mi sembra una grossa inciviltà. Che è un'innovazione anche se impopolare potrebbe risultare sarebbe che gli stranieri che hanno una residenza di 5 anni in un posto, lavorano, hanno famiglie e svolgono una vita quotidiana in questi posti possono votare nelle amministrative. L'innovazione futura che secondo me potrebbe migliorare la vita di molte persone è la riscoperta dei cammini non solo come un'attività ricreativa ma proprio come un nuovo modo di stare insieme di accogliere le persone di riscoprire il territorio. e quindi Grazie a tutti